Un gruppo di antagonisti del variegato fronte contrario all'Expo 2015 ha utilizzato l'edificio milanese simbolo dell'esposizione universale, l'Expo Gate di piazza Cairoli, per presentare la mobilitazione in programma nei giorni dell'inaugurazione. I manifestanti sono saliti sulle tettoie d'ingresso ai due fabbricati che compongono l'edificio, mentre all'interno era in corso un convegno e srotolato un lenzuolo che annuncia le iniziative dei prossimi giorni. Elio Catania della rete Attitudine No Expo. Il modello dell'esposizione universale 2015, contrariamente a quello che ci propina la propaganda ufficiale e i signori dell'Expo, rappresenta secondo noi invece un modello di debito, cemento e precarietà. Per questo il primo maggio una grande manifestazione internazionale attraverserà le strade di Milano per contrapporsi di fatto a questo modello. La mobilitazione degli antagonisti inizierà già il 30 aprile con un corteo studentesco nazionale e con l'apertura del campeggio No Expo al Parco di Trenno, non lontano dal sito espositivo. Il 2 maggio sono poi in programma mobilitazioni diffuse contro l'esposizione universale e il 3 maggio un'assemblea plenaria generale, un programma ambizioso che sfida la capacità di controllo delle forze dell'ordine. Noi rifiutiamo e rispediamo al mittente qualunque tipo di criminalizzazione e di terrorismo mediatico che si sta facendo in questo senso. Gli antagonisti contano di portare in corteo il primo maggio almeno 40.000 persone.